Musica Tragedia sfiorata all'aeroporto di Ancona, un aereo in decollo colpisce uno stormo di uccelli e scoppia una gomma, illese le persone a bordo. Vaccini a chi è in vacanza nelle Marche, per il presidente Francesco Acquaroli tutto si può fare ma serve una grande organizzazione. Dal 15 giugno via libera ai matrimoni ma solo con il Green Pass, dal buffet alla mascherina, ecco tutte le regole per il giorno del fatidico sì. Al via fanno l'installazione di nuovi guardrail in 14 punti della città, partiti lavori anche nel parcheggio di via del risorgimento. Riparte anche a fanno il turismo sportivo previsto in città, grandi eventi e l'arrivo di centinaia di persone. Antincendio boschivo nell'area formativa del Codma, il corso per 40 volontari delle province di Pesore e Ancona, in campo 12 vigili del fuoco e il CB Club Enrico Mattei. Buonasera e benvenuta in questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo con l'incidente che si è verificato all'aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona a Falconara. Un aereo dell'aeronautica militare in fase di decollo ha avuto un impatto con uno stormo di uccelli. Il velivolo ha frenato provocando lo scoppio dei pneumatici ed è rimasto bloccato a fondo pista. Il lesi pilota e copilota. Sul luogo i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'aereo e i mezzi di soccorso. Inoltre si è riunito il Comitato Operativo di Emergenza dello Scalo presieduto dall'Enac. Il velivolo è stato rimosso con l'utilizzo di alcune zattere fatte venire da una ditta specializzata di Senigallia. Durante le operazioni di rimozione che si sono concluse dopo mezzogiorno l'aeroporto è rimasto chiuso. Ed ora torniamo a parlare dell'attacco di un lupo a una cagnolina perché dopo l'appello alle istituzioni lanciato dal sindaco di Monbaroccio oggi interviene l'assessore regionale Stefano Aguzzi. Sono specie protette a livello nazionale. Ha ricordato l'assessore la regione purtroppo non ha competenze. Un attacco in pieno giorno che fa preoccupare sempre di più i cittadini. Dopo le numerose aggressioni registrate in tutta la provincia di Pesero Urbino, quanto accaduto domenica scorsa a Villa Grande di Monbaroccio, ha riacceso i riflettori sulla problematica. Dalle immagini registrate dalle telecamere si vede un lupo che intorno alle 16 ha prima rincorso una cagnolina, poi la spinta verso il lago per fermarne la corsa ed infine la zannata. Ed è solo grazie alle urla del suo padrone Marco Diotalivi che Margot, un Jack Russell di 7 anni, è stata rilasciata dall'animale selvatico. Senza pensarci due volte, Marco si è tuffato in acqua per cercare di recuperare la cagnolina che poi è stata portata d'urgenza in una clinica veterinaria a Fanno dove è stata operata e nel pomeriggio di ieri, per fortuna, Margot è tornata a casa. Su Fanno TV il sindaco di Monbaroccio ha lanciato un appello alle istituzioni regionali affinché si facciano promotrici col governo della modifica della legge del 92. Per il primo cittadino, infatti, è fondamentale quantomeno provvedere ad un migliore censimento dei lupi sul territorio e oggi sulla vicenda è intervenuto l'assessore regionale Stefano Guzzi. Quella di ieri sera che abbiamo visto è stata effettivamente una scena abbastanza impressionante alla quale noi non siamo abituati, qui perlomeno nelle Marche ed in Italia, all'aggressione ad un animale domestico da parte di un animale selvatico, in questo caso il lupo. Noi dobbiamo pensare che in natura è il normale corso delle cose, cioè i lupi in libertà vivono sopprimendo altre tipologie di animali. E questo è brutto vederlo, ma sappiamo tutti che è così in natura. Vederlo su un cane domestico fa una certa impressione per più motivi, anche perché uno, tocca un qualcosa a noi vicino, a noi caro. Due, ci fa anche pensare ma può succedere anche con un essere umano, può succedere anche con un bambino. Questo ovviamente ci preoccupa, però dobbiamo anche essere realisti. Il lupo è una specie protetta, protetta dalla legge nazionale 157, non è una specie sulla quale si possono fare prelievi neppure, diciamo così, di selezione o di prevenzione. Conseguentemente non è che la regione può avere una sua giurisdizione in merito. È un problema, va un attimo seguito, va monitorato per capire effettivamente se riusciamo a gestirlo nel miglior modo possibile. Nel frattempo, io dico che per lenire comunque i danni da lupi, che sempre più frequentemente vengono portati a conoscenza da tanti allevatori, produttori, agricoltori, che ci siano almeno dei ristori sufficienti verso chi questi danni, diciamo così, li subisce. Ecco, più di questo io oggi non posso dire, perché ripeto, non è la regione che può entrare nel merito della cacciabilità o meno di un animale che è protetto da una legge nazionale. E adesso l'aggiornamento con i dati che riguardano il coronavirus. Nelle ultime 24 ore nelle Marche è deceduta una persona con Covid. Si tratta di un uomo di 71 anni della provincia di Fermo. I nuovi positivi sono 77, di cui 31 in provincia di Ascoli Piceno. Si dimezza il rapporto con i tamponi processati che è pari al 5,7%. Un altro calo si registra negli ospedali della regione, dove ci sono 18 pazienti meno rispetto a ieri. Il numero dei degenti in terapia intensiva rimane invariato, sono 36 in totale, mentre quello dei pazienti in semi-intensiva scende a 61. E il vaccino anti-Covid prodotto da Moderna mostra un'efficacia al 100% sui ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Lo ha fatto sapere oggi l'azienda farmaceutica, precisando che in questa fascia di età non viene rilevato nessun problema significativo di sicurezza. Già dopo la prima dose, si legge in una nota, l'efficacia arriva a un 93%, mentre dopo due dosi è del 100% a partire da 14 giorni dopo la seconda iniezione. I risultati sulle sperimentazioni, che negli Stati Uniti hanno coinvolto più di 3.700 adolescenti, verranno presentati agli enti regolatori nel mese di giugno e verrà chiesta l'autorizzazione. Il Presidente della Regione Acquaroli oggi ha commentato l'ipotesi di vaccinare i cittadini anche in vacanza. Tutto si può fare, ha detto, ma occorre una filiera tra il Ministero della Salute e le Regioni. La vaccinazione è un elemento, come abbiamo ripetuto più volte, molto importante per mettere in sicurezza la popolazione, non si possa interrompere, non può condizionare sicuramente la vita di ognuno. Però per fare un'operazione di vaccinazione anche a coloro che vengono in vacanza da noi occorre una grande organizzazione che sia una filiera verticale e orizzontale tra il Ministero e tutte le Regioni. Perché chiaramente se un cittadino marchigiano fa la prima dose e il richiamo lo deve fare in vacanza è chiaro che noi dobbiamo mettere in grado anche la Regione o il territorio che dovrà inoculare il vaccino di avere la disponibilità. Non può la Regione ospitante togliere il vaccino ai suoi cittadini. Quindi si tratta di un'organizzazione impattante. Al netto di questo credo che tutto si possa fare. Stiamo continuando bene, io ringrazio veramente tutti quelli che stanno lavorando alla vaccinazione, ringrazio l'assessore perché con molta dedizione segue costantemente l'andamento di questa azione importantissima che deve inorgogliere anche la nostra regione perché essere tra i primi non significa vincere perché non c'è un premio ma significa essere efficienti e questo ci deve inorgogliere. E festeggiano le coppie che finalmente hanno avuto dal Governo una data certa per i matrimoni. Il 15 giugno potranno ripartire le nozze e le feste connesse anche al chiuso ma nel rispetto di una serie di regole come quella della Green Pass. Tutti i dettagli nel servizio di Angelica Panzieri. Riparte anche il settore del wedding, finalmente il Governo ha emanato il decreto riaperture e con esso anche la data certa per la ripartenza dei matrimoni che è quella del 15 giugno. Querrito un po' tenero, un po' goliardico del lancio del buchè della sposa durante il ricevimento è salvo. Ripartono i matrimoni e feste a Nisse anche al chiuso dal 15 giugno ma dovranno essere rispettate una serie di regole. Innanzitutto gli invitati dovranno avere il Covid Pass, ovvero un certificato verde che testimonia l'avvenuta vaccinazione anche solo della prima dose, almeno 15 giorni prima della cerimonia, la guarigione da Covid o un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. A possederlo dovranno essere tutti gli invitati, sposi compresi. E ancora ci sarà l'obbligo di indossare la mascherina sia negli ambienti interni che all'aperto nel momento in cui non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone. Nessun tetto invece al numero degli invitati, che sarà dettato dalla grandezza degli spazi a disposizione. I tavoli saranno distanziati di almeno due metri l'uno dall'altro. Da dimenticare i classici assembramenti del passato al buffet, gli ospiti non potranno toccare il cibo e saranno serviti dai camerieri direttamente al tavolo. Tante le richieste arrivate ai titolari delle varie location che hanno avuto conferme da tutti quegli sposi che fino ad oggi erano rimasti in stand by. I matrimoni sono stati praticamente tutti confermati, i nostri clienti hanno il piacere, hanno la voglia, hanno voglia di far festa, voglia di divertirsi, voglia finalmente di sposarsi ma soprattutto di vivere in maniera tutti assieme la loro festa, la festa più importante della loro vita. Ci siamo organizzati come sempre, tenendo alta comunque le precauzioni, noi siamo pronti ad accogliere nel nostro ristorante le nostre spose. Dal comitato tecnico scientifico, che ha dettato le linee generali per le nozze, arrivano indicazioni anche per il personale tecnico. I fotografi avranno l'obbligo di indossare sempre la mascherina nel momento in cui la distanza tra loro è inferiore al metro. Matrimoni precedenti già prenotati a quelle nuove possono, si aggirano intorno tra i 20-30 matrimoni, quello sì, la voglia c'è, la voglia di ricominciare c'è, anche se ci sono delle piccole restrizioni comunque, perché dobbiamo sempre rispettare delle normative che il governo ci ha imposto, però ci sentiamo un pochino più liberi e un pochino più, diciamo, liberi proprio di ricominciare a lavorare. Bisogna avere pazienza, se tutti facciamo il nostro piccolino, anche in un gruppo grande, diciamo, a lavorare tutti. All'esterno si potrà ballare. Dentro il locale, invece, gli eventi con ballo in spazi interni andranno organizzati con tempistiche predefinite di circa 15 minuti. Insomma, un settore che riparte nel rispetto di regole ben definite e che vedrà tornare in campo anche le wedding planner, capaci di pianificare ogni minimo dettaglio per rendere il giorno degli sposi unico e speciale. Che cosa fa una wedding planner? Qual è il suo ruolo all'interno del matrimonio? Allora, pianificare tutta l'organizzazione del matrimonio con i tempi, le tempistiche e soprattutto in questo periodo anche rispettando tutte le regole per il Covid e cercare comunque di realizzare i sogni e tutte le richieste che vengono fatte dagli sposi. E ripartono anche gli eventi sportivi. A Fano è previsto l'arrivo di centinaia di persone. Naturalmente in questi eventi bisogna tenere anche i prezzi un po' abbordabili con la crisi che c'è stata, ma quello che è importante ci sono dei numeri eccezionali per la conoscenza del nostro territorio. Gli eventi sportivi come strumento di rilancio per il turismo grazie al decreto riaperture del Governo e alla possibilità di tornare a praticare gli sport di squadra e di contatto riparte anche a Fano la macchina organizzativa. Diversi infatti i tornei e le iniziative in programma che porteranno in città centinaia di persone. Bisogna ringraziare l'amministrazione comunale che è riuscita a portarci questi grossi eventi tipo la pallavolo, tipo il paracadutismo tipo il canottaggio che a Fano non ce l'avevamo. Questi giorni ci sarà anche la Super Marathon poi avremo un evento al tiro a volo poi un altro evento importante con l'Inter l'Inter Club che sta organizzando un camp qui a Fano anche questo già abbiamo delle pronotazioni persino dalla Sardegna hanno chiamato di questo evento. Per quanto riguarda l'Inter in particolare visto che è una novità per la nostra città di che cosa si tratta? Sì, ci saranno degli allenatori che ai ragazzi mi sembra il massimo dell'età è 13 anni insegneranno le tecniche e un qualcosa di più anche l'educazione di stare in campo perché in questo momento ne abbiamo bisogno ma non solo questo io dico lo sport è anche una scuola di educazione e di comportamento. E c'è un nuovo slogan che lancerà le tante iniziative ed è Vacanza di Gusto una frase spiega Cecchini che ho lanciato anche alla Federabberghi di Roma e che riesce a racchiudere tutte le nostre peculiarità. Dalla degustazione dei nostri piatti tipici al bel vedere, l'arte, la cultura, allo star bene io parlo sempre da Gabice fino ai confini di Senigallia è una vetrina qualcuno dice che è un diamante incastonato in qualcosa di bello zero morti, fermiamo la strage nei luoghi di lavoro sono gli slogan utilizzati durante il presidio promosso dai sindacati davanti alla sede della regione per sensibilizzare sul tema della salute, della sicurezza sul lavoro e in particolare della prevenzione dall'inizio dell'anno si sono verificati oltre 4.000 infortuni sul lavoro di cui tre mortali i rappresentanti dei sindacati hanno incontrato come vedete dalle immagini il presidente Acquaroli raccogliendo la sua disponibilità ad avviare un percorso per dare risposte concrete i sindacati hanno consegnato al governatore un pacchetto di proposte tra queste un incremento degli organici dedicati alle attività di vigilanza e la definizione di un piano mirato di prevenzione e domani farà tappa nelle Marche il sottosegretario del Ministero dell'Istruzione Rossano Sasso in mattinata incontrerà Acquaroli e l'assessore Giorgia Latini a Palazzo Raffaello ad Ancona per poi trasferirsi a Montegiorgio dove visiterà la scuola primaria Ceci nel pomeriggio sarà da Scolipiceno insieme ai sindaci dei comuni colpiti dal terremoto nel 2016 e nel 2017 Torniamo a Fano dove sono iniziati i lavori per l'installazione di nuovi guardrail in 14 punti della città oggi è partito anche l'intervento per sistemare la pavimentazione del parcheggio di via del Risorgimento il servizio di Filippo Pucci La bella stagione alle porte e l'amministrazione fanese è già all'opera per migliorare quei piccoli interventi che fanno la differenza Sono iniziati venerdì scorso in zona Fosso Seiore i lavori di ammodernamento del ponticello che attraversa la foce e che collega il sottopasso ai camping vicini a questi si aggiunge anche lo sfalcio della vegetazione lungo la ciclabile Negli ultimi anni l'aumento considerevole del traffico pesante ha messo in evidenza anche naturalmente delle criticità di quelle che erano le strade In una ricognizione abbiamo notato anche per colpa di incidenti di ignoti l'ammalloramento di alcuni guardrail e di alcune parti In questo caso specifico ci troviamo a Fosso Seiore dove stiamo provvedendo alla sistemazione sia del ponticello di quelle che sono le parti di calcestruzzo ammallorato ma anche alla sostituzione del guardrail qui apposto con un nuovo materiale che è il corten appunto un materiale che di fronte al mare la salsedine avrà una manutenzione migliore lo stesso materiale verrà applicato nella zona di Sassogna vicino ai cocarde perché anche interverremo anche lì Ma non solo, eccoli qui gli altri interventi che proseguiranno verso le zone interne della città sono 13 infatti i guardrail individuati dal comune e che verranno presto sostituiti Tutti i punti con le località interessate sono consultabili sul nostro sito occhioallanotizia.it Naturalmente è un intervento di messa in sicurezza di quello che è sia la parte estetica ma soprattutto di funzionalità di quelli che sono i guardrail perché proteggono la strada dalle parti adiacenti è un primo stralcio di progetto, quindi parliamo di 13 interventi al quale in un secondo tempo ne seguiranno degli altri che in questo momento abbiamo in qualche modo anche identificato Inoltre oggi sono anche partiti gli interventi di riqualificazione del parcheggio di via del risorgimento quello a fianco del commissariato di polizia di Fano Verrà chiuso sino a giovedì per la messa in sicurezza di quello che è lo stato della pavimentazione perché oggi versava in condizioni davvero disagevoli per cui metteremo uno stabilizzato che quantomeno renderà l'area uniforme in attesa del progetto dell'assessore Tonelli che partirà a breve A Pesora invece è stato firmato l'accordo tra il comune ed RFI per la riqualificazione della stazione ferroviaria Tra gli interventi un nuovo ingresso lato sud, un rinnovato piazzale e fabbricato viaggiatori, più parcheggi e spazi ciclabili Altri 8 milioni dello Stato, ha sottolineato il sindaco Matteo Ricci Stiamo cercando di rendere la città sempre più competitiva Avremo un'estate ben servita dal punto di vista delle tratte ferroviarie Un elemento, ha concluso il sindaco, che ci fa guardare alla stagione estiva con la speranza che il settore del turismo possa rinascere I lavori inizieranno entro la fine del 2022, mentre la fase esecutiva è prevista per l'anno successivo Il costo complessivo dell'intervento è di 16 milioni di euro Sono stati due fine settimane impegnativi per i volontari che hanno partecipato al corso regionale di antincendio boschivo a gestire le operazioni e la protezione civile di Fano La regione Marchi ha scelto proprio la città di Fano quest'anno per il corso sull'antincendio boschivo denominato AIB Due fine settimana dedicati alla teoria e alla pratica per 40 persone dai 20 ai 45 anni Due invece le province coinvolte I volontari infatti provenivano sia dalla provincia pesarese che da quella di Ancona A raccontarci nel dettaglio il lavoro di formazione è il presidente del CB Club Mattei Saverio Livi Sono quattro giorni intensi tenuti dai vigi del fuoco solo qui abbiamo avuto la bellezza di quasi 10-12 vigi del fuoco in alternanza per insegnare ai ragazzi come si devono comportare nei confronti, nella lotta di un incendio boschivo oltre a questo l'incendio boschivo anche di interfaccia, cioè vicino alle case è stato molto importante, interessante hanno scelto appunto il polo formativo di Fano perché si presta molto bene ed è terminato il tutto soprattutto a Bosco Col di Cave in una realtà dove i ragazzi hanno potuto veramente esercitarsi nel bosco Nelle immagini che vedete non sono criticabili perché ancora i ragazzi non hanno i dovuti DPI, il casco e tutto il resto perché dopo quello che state vedendo all'interno del bosco devono dare l'esame per superare quindi essendo dispositivi individuali non possono dare un dispositivo prima di essere in pratica formati dopodiché andranno nel bosco con i dovuti DPI come i vigili del fuoco non si inoltreranno ma sono soprattutto in supporto quando c'è un incendio boschivo ai vigili del fuoco al direttore di spegnimento quindi i vigili del fuoco gli hanno insegnato oltre a come si affronta un incendio anche come utilizzare il proprio modulo per prendere confidenza una formazione molto molto importante qualora dovesse succedere un incendio delle nostre parti e con 166 sì l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al DDL per il distacco dei comuni di Monte Copiolo e Sasso Feltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia Romagna i no sono stati 41 e gli assenuti 12 andiamo avanti con la nostra scaletta gli assessori della regione Mirco Carloni e Giorgia Latini sono intervenuti sul ritrovamento dei resti dell'ala sinistra del Tempio della Fortuna di Fano la storia hanno commentato torna ad essere protagonista di una delle città marchigiane con maggiore fascino sarà un impegno della regione valorizzare quanto sta venendo alla luce che arricchisce il patrimonio archeologico insieme agli studi su Vitruvio e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale tra poco trasmetteremo l'ultima puntata di questa stagione di Guarda chi c'è l'ospite di Paolo Notari sarà Veronica Berti Bocelli che racconterà la sua vita dedicata alla lirica e all'impegno umanitario con l'Andrea Bocelli Foundation io vi ringrazio per l'attenzione l'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con la Rassegna Stampa arrivederci